Cioè è il tentativo, lo sforzo con i sistemi moderni di prendere l'altro col Paese. Il mio consiglio è questo, di prendere il rapporto con il Paese. Tutto qua. Poi assicuro che si vince, perché se ho vinto io, che avevo un millesimo della forza che aveva Berlusconi, vuol dire che il sistema funzionava. Beh, ho vinto anche perché si è accorto tardi che io esistevo. Però ha funzionato. E io non avevo nessun mezzo e tutti ridevano. E tutti ridevano. Diciamo la verità. Ma questa è democrazia.